buongiorno in questo video vorrei parlarvi del rapporto di coppia tra eros e sofferenza parleremo del legame affettivo a Goethe piaceva definire affinità elettive quei particolari incontri dell'anima che conducono l'uno nelle braccia dell'altro trascinando entrambi in un territorio dove la razionalità ha scarsa frequentazione molte coppie di fatto si costituiscono basandosi proprio su questo afflato dello spirito avvertendo i movimenti interiori di una straordinaria somiglianza con l'altro è un altrettanto incomprensibile trasporto che obnubila la mente e dischiude dimensioni inusitate dell'interiorità umana ad avvertirsi è proprio uno strano sospingimento che ci induce a leggere negli occhi dell'altro complicità e intimità ci induce a sentire le sue parole riecheggiare nei nostri vissuti e nelle nostre sofferenze e le nostre piccole debolezze si diffondono nella consapevolezza più compiuta dell'altro insomma ci rispettiamo nell'immagine che l'altro ci propone con totale trasporto presagendo una vita fatta di comunanza riconoscendo nelle sue rughe le nostre espressioni abituali nei suoi gusti i nostri diletti nelle sue movenze del capo le nostre piccole vezzosità e ci sentiamo non più unici non più chiusi non più soli qualcuno finalmente respira la nostra aria e quel che è ancora più importante avverte lo stesso sapore il medesimo odore che noi percepiamo diffondersi tutto intorno un'ebbrezza allora ci coglie fino ad inficiare la percezione oggettiva dell'alterità e allora le aspettative le illusioni i desideri che abbiamo spesso taciuti a noi stessi non soltanto trovano il coraggio per emergere ma trovano persino immediata realizzazione vengono proiettati sull'altro e il suo volto si colora di tinte che in realtà non possiede ma che il nostro desiderio vi attribuisce prontamente tuttavia proprio nel transito continuo e reciproco delle emozioni dalla nostra interiorità alla realtà del nostro interlocutore viene a definirsi una dimensione esistenziale nuova tanto comune quanto sostanzialmente fittizia ma la cui intensità emotiva è talmente densa da mostrarsi come un vero e proprio vincolo della nostra anima a quella dell'altro abbiamo bisogno di quel partner sentiamo la nostra incompletezza dipendiamo da lui dalla sua presenza abbiamo creato in altri termini un legame un ponte una congiunzione che ci consentono di uscire da noi stessi e di trasferirci per un po' nel sentire dell'altro vagando nei suoi possedimenti interiori e lasciando che egli vaghi dei nostri territori più reconditi e al posto dell'unità poniamo la duplicità ma proprio in questa terra di entrambi e di nessuno il nostro esserci introdotti comincia prima o poi a pesarci o meglio a farci comprendere tutto il suo valore simbolico e reale tutte le implicazioni che il rompere gli schemi della singolarità comporta e sentiamo le nostre responsabilità il nostro ruolo nella felicità dell'altro così come nella sua tristezza nelle sue piccole gioie così come negli improvvisi cambi di umore nelle labili nuvole che a volte attraversano i suoi pensieri così come nei repentini scatti di nervi di gelosia di fastidio ogni nostro gesto allora ha un significato è un peso relazionale anche quel piccolo vizio che ci concedevamo infantilmente quella piccola tentazione cui non riuscivamo a resistere possono diventare i suoi occhi azioni deliberate autonome scelte con un valore simbolico importante perché ogni azione diventa gesto verso l'altro ogni scelta è per due ogni decisione comporta una diretta implicazione nel rapporto e ciò che si compie più che un atto è un atto simbolico nel quale l'interlocutore legge un valore comunicativo e affettivo eppure quanta gioia nel volto dell'altro quando la scelta è proprio quella giusta e allora tutto si fa per quel sorriso candido e innocente che abbiamo visto qualche volta soltanto ma che adesso inseguiamo forse natamente ci sentiamo in dovere di farlo apparire perché dipende da noi ecco nel momento in cui comprendiamo che esistono dei particolari gesti che provocano nell'altro gioia o tristezza capiamo che egli dipende da noi e in quel momento abbiamo creato un vincolo di coppia questo è il vincolo di coppia un sentimento che prevarica ogni considerazione razionale pertanto il legame diventa una necessità che cos'è un legame legame ciò che tiene insieme i componenti di un elemento chimico ma è anche ciò che unisce due individui ciò che li congiunge facendone appunto un terzo elemento cioè una cosa sola ma legame è anche ciò che si stende tra un individuo e l'altro ciò che rende l'uno schiavo del secondo e allo stesso tempo suo padrone il legame è ciò che ci tiene avvinti a qualcuno sia in senso positivo che negativo e ciò che ci impedisce di sentire la nostra autonomia rispetto all'altro legame è ciò che può opprimerci non lasciandoci lo spazio e l'aria vivibili prima il legame è una dimensione nuova elettrizzante sostanzialmente appagante soprattutto soddisfacente due individui si uniscono e si uniscono a tratti da una forza che travalica la loro stessa intenzionalità e finiscono poi per dividersi soltanto quando un elemento estraneo si interpone tra di loro creando con la sua semplice presenza la possibilità di nuove combinazioni l'amore ahimè può esaurirsi di per sé proprio come un fuoco che si spegne che cosa rende una persona attraente agli occhi di un altro quale mistero beh ogni essere così come ha un rapporto con se stesso deve avere anche una relazione con gli altri e questa relazione sarà diversa a seconda della diversità di ognuno di noi e allora si incontreranno gli amici si incontreranno i conoscenti quelli che legano in fretta quelli che si uniscono senza modificarsi a vicenda come il vino che si mescola con l'acqua altri invece pur trovandosi vicini continueranno a restare estranei e non ci sarà verso di legarli nemmeno mescolandoli e strofinandoli con mezzi meccanici per esempio così come l'olio e l'acqua che appena si smette di sbatterli si separano di nuovo quelle sostanze che incontrandosi immediatamente si compenetrano e si influenzano a vicenda le chiameremo affini questa affinità salta subito agli occhi forse proprio perché le sostanze si cercano e si stringono in un legame strettissimo si modificano e formano corpi nuovi ed è in questo stesso modo che possono nascere tra le persone delle amicizie veramente importanti infatti sono le qualità opposte quelle che rendono possibile una unione più intima e che gli opposti si attragano è una nozione risaputa da sempre soprattutto in ambito psicologico perché qui è di scena l'inconscio gli aspetti inconsci diventano complementari e finiscono per rappresentare l'immagine che cerchiamo nel nostro partner le due istanze complementari si uniscono in un tutto unico e organico che non è più la somma dei singoli elementi ma è appunto un tutto perfettamente integrato è un tutto che contiene ogni estremo ogni sfumatura perché è costituito dagli opposti dal maschile dal femminile dal bene dal male e su un piano inconscio si può dire che la personalità ha raggiunto la sua integrazione e allora integrare l'alterità inconscio è proprio il compito della nostra esistenza un compito che ci porta alla completezza ciò che di questa dinamica appare interessante è il fatto che non è una dinamica casuale ma è frutto di una inconscia selezione interiore il mondo muta ai nostri occhi ma in realtà è cambiato soltanto il nostro sguardo e allora accade che un'energia insolita investa anche gli individui più pigri e tutte le doti dell'anima vengono mobilitate con il solo scopo di arrecare gioia all'altro bene vi invito a vedere la mia playlist dedicata alla relazione di coppia che trovate nel mio canale youtube dove ci sono oltre 500 video dedicati alle relazioni affettive alle dipendenze affettive ai disturbi di personalità al narcisismo alla manipolazione e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche oppure via mail per cui se volete richiedervi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 non telefonando ma scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza inoltre vi informo che ho pubblicato quattro libri che si trovano soltanto su amazon sia in versione cartacea che in versione ebook troverete tutte queste indicazioni al di sotto del video buona giornata